Ciao a tutti, io sono Angela del gruppo delle Italian Girls Sono Debbie delle Italian Girls Io sono Lorena delle Italian Girls Mi volevo ricordare che E' uscito il nostro singolo Mai Nessuno su tutti i portali di download online iTunes, Spotify, eccetera E io spero veramente, con tutto il mio herzio, che vi aiutate in tantissimi supporti E spero che ci sostenete in tanti ancora Vi ringrazio tantissimo, un bacione e a presto Un bacio a tutti, un abbraccio Stay tuned, ciao! Now my life will leave you